ok c'è un'altra cosa da tentare ah lol che cos'è sta roba forse un travestimento mi sa forse sarà un travestimento è vero ah ci vuole il cane ah ecco forma di lancio una bottiglia una bottiglia deve essere uno di quei segreti più selezionabili ok ok un altro barchetta un altro barchetta 5 di 5 ah un'altra bottiglia ah ecco possiamo navigare nei mari in questo modo ah 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 questo da inserire in quattro posto ah qua aspetta qua arrivano ah 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 Vai, salta su Ok, si va Oh 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 Vai con livello 1 Yeah Sbloccato, la maledizione della prima luna Del forzer fantasma Quindi ci siamo Sbloccati un po' di personaggi Mi ha sbloccato tutti i 4 episodi Quindi questa era solo Una Anteprima Ok Percentuali Puoi mettere giocabile a quanto pare Se uno vuole fare il bonario A completarsi le percentuali Un po' di points che soddisfano a sangue Un po' di points che soddisfano a sangue Gli oggetti Gli ho trovati tutti Un po' di scena di Un po' di scena di Mattuccini d'oro No Magari ce n'è uno Ok Continuiamo la storia Grazie 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 Grazie